e siamo qui una buona serata sono fuori in auto e sbircio da una sbirciatina in attesa che arrivo a casa e guardo col computer cosa è accaduto farò a primo impatto guardo il mensile di novembre la mia previsione ragazzi nazionale perché era solo sul nazionale e poi giustamente tutto è come recupero due ambiti 1734 42 66 e stasera sul nazionale vediamo quanti cittadini arriveranno di coloro che hanno acquistato il mensile ogni mese è festa grande stasera c'è l'ambetto 1634 ambetto da 1734 e ragazzi è da 42 66 e è uscito il 66 perché possiamo dire ambetto con due numeri ambo in quartina ambette a non finire in quartina ragazzi e poi per un punto ci poteva scappare un bellissimo terno per cui ambo spaccato ragazzi unica ruota unica ruota nazionale cosa vogliamo di più il mensile ora appena rientro guarderò bene il tutto vediamo quanti cedolini arriveranno e ripeto il mensile ha fatto il suo dovere ogni mese è festa ciao a tutti